Un grande parco eolico, il più grande dell'Emilia-Romagna. Torna in gioco il maxiprogetto di GeoItalia, dopo il parere favorevole della Tarra del Lazio, a sei anni di distanza dalla prima proposta della ditta costruttrice. Il piano prevede la costruzione di torri alte 115 metri sulla dorsale appenninica, a cavallo tra Emilia-Romagna e Toscana, ai confini tra i comuni di Verghereto, Casteldelce, Badietta ed Alda, rispettivamente nelle province di Forlicesena, Rimini ed Arezzo. L'enorme impianto porterebbe in dote 280 milioni di kilowatt ora ogni anno, un numero elevatissimo, contando che al momento nella nostra regione se ne derivano solo 27 milioni da energia eolica. Si tratterebbe di una spinta importante per il piano energetico dell'Emilia-Romagna, che punta a ridurre entro il 2020 le emissioni della 20%, producendo il 20% in più da fonti pulite. Al momento in regione solo 16 miliardi di kilowatt ora sono ricavati da energia rinnovabile sui 29 miliardi di fabbisogno. Ma al di là dei vantaggi energetici, il progetto continua a far discutere, oltre all'opposizione degli ambientalisti per l'imponente impatto ambientale delle altissime torri a due passi dal Parco delle Foreste Casentinesi, anche il sindaco di Casteldelci, Luca Cappella, ha manifestato forti dubbi. Gli altri due comuni invece sono allettati dai grossi introiti che finirebbero nelle casse dei piccoli centri. GeoItalia ha promesso ai sindaci indenizi per 500 mila euro l'anno, oltre all'operazione di azionariato popolare che si abbinerebbe al progetto.